Salve a tutti, benvenuti in un nuovo video si, si è aperto il portale in realtà già da un po' in realtà già da un paio di giorni però volevo provare a spremere il boss del clan finché potevo e mi è andata bene, un paio di schegge ancora sono uscite e quindi insomma via siamo pronti per fare bene, spero, spero ci sono 11 schegge non sono tantissime l'ultimo leggendario che mi è uscito è stato Killian quindi luci e ombre però insomma qualche speranza ce l'abbiamo quindi non perdiamo a tirare tempo e via, chissà di essere benedetti da qualche lampo giallo oggi allora no uh Aina Aina non mi piace molto ha la possibilità di mettere in riduce difesa grosso ma target singolo quindi no ha anche la possibilità di mettere in debolimento target singolo però no non è un buon campione soprattutto adesso che è stata aggiunta Armina per questa fazione direi proprio che Aina è un povero pollaccio poi se qualcuno conosce moltiplicatori assurdi di questo campione me lo dica però onestamente io non credo Outar Outar è un campione che ho utilizzato lo ritengo un ottimo campione sicuramente anche per boss del clan però ci sono avvelenatori migliori di lui secondo me anche la stessa la stessa bash gelata è un avvelenatore migliore lui può mettere 4 debuff veleno è vero però ogni 2 turni per 3 turni quindi c'è comunque un turno scoperto se non avete un extender non è il massimo per i boss del clan in altri contesti per il drago invece ad esempio lo vedo veramente veramente molto interessante e 2 andate 3 ancora viola ok tormento mascherato mi mancava è uno degli ultimi campioni che sono stati rilasciati nel periodo di Halloween insomma ha la possibilità di mettere strizza in vari contesti non lo so onestamente l'ho visto in azione non mi è piaciuto molto fa un buon danno devo dire però ci sono controllori oh ecco ecco oh roxam qualcuno di voi mi invidierà ne sono sicuro del 100% almeno uno di voi mi invidierà e tu sai chi sei comunque allora roxam è molto interessante in particolare per me visto che ho già un campione molto molto abile a mettere velo perfetto a tutti in duchessa perché appunto si tira fuori meglio di lui nel momento in cui è coperto da un velo con questa la possibilità appunto di stordire con un 100% di possibilità una volta che c'è un velo con questa ha un 100% di possibilità di mettere i luci difesa in debolimento ad area se c'è un velo perfetto se c'è un velo inoltre lui si potenzia e di molto lui è anche in grado naturalmente di coprirsi con il velo in qualsiasi circostanza insomma tutte le sue skill gli mettono il velo se non ce l'ha però è comunque uno spreco di tempo cioè porto avanti di un turno le sue potenzialità quando qualcuno che invece mette già velo sono assolutamente nelle condizioni di tirare fuori il massimo da lui immediatamente fortunatamente un sacco di parole così fortunatamente gli sono già coperto in tal senso quindi benvenuto Roxham benvenuto davvero davvero Roxham non vedo l'ora di metterci le manine ma andiamo avanti ma andiamo avanti allora oh oh Ignatius si Ignatius Ignatius sono contentissimo sono contentissimo per Ignatius è una bestia questo campione veramente veramente forte anche per lui sono contento allora è preoccupante la situazione perché comincio già ad avere troppi leggendari da tirare su troppi libri leggendari da usare comincia ad essere preoccupante la situazione devo dire però Ignatius tantissima roba davvero allora può stordire con la prima ma vabbè ha la possibilità di provocare tutti con la sua seconda skill con un 75% di probabilità e questa cosa è grandiosa per la cripta davvero con la terza invece mette bruci hp ad area con un 100% di possibilità ogni 5 turni per 2 turni ma la probabilità è sicura al 100% il che lo rende grandioso per il ragno davvero davvero grandioso per il ragno ma si può utilizzare l'ho visto utilizzare da solo praticamente lui insieme ad un personaggio forte a curare a rianimare come Sifi per esempio lo utilizzava Ash appunto per liquidare la fase massima il livello finale della roccaforte difficile in 2 ci impiegava un quarto d'ora quello che è però cadeva proprio a mani basse senza nessun problema sfruttando Ignatius e appunto la nostra buona Sifi penso che possa andare anche con Lilitu potenzialmente vedremo chi lo sa chi lo sa quindi dai 11 schegge che però per adesso ci hanno portato bene davvero allora torniamo un po' al viola allora cannoniera cannoniera è un capione scandaloso ha la possibilità di mettere il dissanguato a target singolo con un 100% di possibilità il che non la rende malvagia per il boss del clan devo dire per il dissanguato sanguisuga insomma chiamatemelo come volete non tanto per il riduci precisione perché il boss non penso che possa essere influenzato più di tanto il debuff può essere messo ma sarà soltanto una perdita di spazio tra il debuff che è possibile mettere per voi quindi dipende con la prima può metterlo mentre attacco grosso una volta che viene scesa su un alleato soltanto però con questa mette protezione alleato sull'obiettivo per due turni quindi uno ci sono campioni come epici come sergente di ritirata che potrebbero insegnargli davvero davvero molte cose quindi mi dispiace cannoniera ma finirai in cantina se non ci sei già anzi forse c'è già devo dire superstite sabbiato davvero davvero ottima un ottimo campione un grandissimo campione davvero con la prima può provocare che è già una cosa buona con la seconda attacca tutti i nemici riduce di un turno la durata di tutti i buff e aumenta di un turno la durata di tutti i buff alleati questa è una cosa che si utilizza con grandissima soddisfazione dal boss del clan io l'ho utilizzata davvero per molto molto tempo poi l'ho sostituita con Krisk perché naturalmente un leggendario come Krisk vi dà anche qualche garanzia in più però è il classico campione che vi rende perenni determinati debuff che vengono messi ogni tre turni per due turni negli estendi di un turno e quindi praticamente dureranno tre turni per tre turni e il campione una volta che scadano sarà subito immediatamente pronto per riposizionarli di nuovo per poi essere stesi in un ciclo continuo quindi davvero bene anche la sua passiva è ottima perché mette un protezione alleato su tutti gli alleati per due turni quando gli HP di un determinato campione scendono al di sotto di una certa soglia si mette anche un blocco danno in modo da incassare con zero danno gli eventuali danni che arriveranno quindi davvero ottime a superstite è anche dotata di statistiche davvero niente male e quindi si può utilizzare in tanti contesti sicuramente anche nella sua stessa cripta davvero notevole in peritura se non sbaglio mi sbaglio forse si mi sbaglio non è lei quella che riduce i tempi di ricarica delle skill ma vabbè mi dicono che lei abbia dei moltiplicatori di danno abbastanza notevoli però non l'ho mai provata quindi non lo so non so dirvi onestamente sarebbe interessante eventualmente da provare con questa skill per vedere se può essere eventualmente per esempio il vostro nuker per l'arena potrebbe essere interessante ma finché non si prova non si sa decisamente allora oh oh ghostborn allora è interessante è molto interessante ghostborn davvero non so quanto ho bisogno di lui visto che come debuffer sono già stramega coperto e per la cripta degli elfi oscuri secondo me è un po' meglio madame serris perché riduce anche l'attacco contemporaneamente perché toglie anche i buff e quindi nella ondata in cui ci sono le valkyrie che mettono il disastro insomma di scudo il disastro di contrattacco lei ha la possibilità anche di rimuovere completamente questi buff quindi secondo me per la sua cripta è più utile in tutto il resto posso utilizzare altri debuffer che ritengo più potenti di ghostborn ma perché è interessante ha la possibilità con la terza appunto di ridurre la difesa ad area del 60% di aumentare l'attacco anche contemporaneamente a tutti quanti ma cosa molto buona questo debuff riduce resistenza non può essere contrastato quindi lui di fatto non ha bisogno di precisione per mettere il suo debuff gli altri debuff che mette può essere anche rilevante insomma che lo faccia può mettere riduce difesa target singolo però già lo fa ad area ha la possibilità di mettere riduzione guarigione del 100% ma sapete che non è poi così determinante quindi potreste anche completamente ignorare la precisione fargli fare questa questa skill appunto consapevoli che lui mette il riduce difesa con il 100% di probabilità purché ovviamente abbia l'affinità a favore insomma o comunque un'affinità neutra se fa colpo debole contro avversario blu naturalmente non può mettere il suo riduce difesa comunque molto interessante se lo avete trovato potrebbe essere il vostro debuff per l'arena anche perché fa un buon danno quindi potrebbe aprirvi le vie insomma togliendo tutti gli scudi perché li ha battuti oppure già facendo un danno di una certa entità ai vostri avversari il vostro nuker poi dovrà soltanto completare il lavoro quindi davvero davvero molto buono Gosporn vediamo poi allora oh è il secondo è il secondo devo dire però è un grandissimo campione insomma vi rimando il video in cui vi ho dimostrato tutto il mio amore è il modo anche in cui lo sto amando in questi giorni perché davvero mi sta sorprendendo molto in tutti i contesti in cui lo sto usando quindi davvero davvero grandioso davvero davvero uno dei migliori campioni se non forse il migliore in assoluto tra quelli rilasciati terminiamo con quello che secondo me è un pollaccio Adriel è un campione che non mi è mai piaciuto è stato uno dei primi campioni che ho è uno dei primissimi campioni epici che ho tirato fuori dalle schegge può mettere riduce precisione con un po' di probabilità non tanta guarisce un pochettino tutti gli alleati e mette anche un rifletti danno che non è neanche malvagia come cosa insomma con la terza attacca tutti i nemici con un 50% di mettere riduce attacco che diventa 100% nel momento in cui voi le date tasso statistica che però non vedo molto utile su di lei perché non penso che faccia danno e quindi nel contesto insomma all'inizio potreste essere tentati di utilizzarla magari in arena per la sua aura visto che aumenta la velocità degli alleati della magia in tutte le battaglie e in genere all'inizio si investe molto su campioni di tipo magico come il vostro starter come tanti altri insomma e quindi all'inizio ma proprio proprio all'inizio potrebbe essere la vostra aura quindi va a influenzare campioni come il farmacista per esempio come il vostro starter appunto come tanti altri però è chiaro che è molto più potente un'aura che si attiva in ogni caso insomma anche soltanto per l'arena un'aura come quella di cranio e corona come quella di gorgorab sono decisamente migliori della sua nel contesto dell'arena e in tutti gli altri contesti dipende da chi vi portate dietro comunque io non sono un grande amante delle aure che si attivano soltanto per determinate affinità in generale comunque comunque potreste utilizzarla all'inizio come curatore per la sua cripta forse potrebbe essere interessante come curatore questa può farla ogni tre turni quindi non è neanche male 20% degli HP massimi del target non è tantissimo ci sono decisamente curatori migliori di lei probabilmente anche nella stessa fazione però insomma ecco allora sono contento davvero ben tre leggendari da 11 schegge penso che non mi sia mai capitato l'altra volta anche l'altra volta avevo trovato tre leggendari ma da 21 schegge o forse erano anche 23 non mi ricordo e inoltre come qualità decisamente molto 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 meglio questo giro nessun doppione nessun doppione tre campioni veramente interessanti anche Ghostborn sarebbe davvero interessante ma come vi dicevo sono già coperto quindi penso che non lo farò per quel motivo ma comunque ma comunque va bene il video finisce qui ragazzi io vi auguro la più profonda delle fortune proprio migliore della mia che da una scheggia vi escano due leggendari perché ve lo meritate tantissimo spolliciate se avete gradito il video e lasciate un commento come al solito e noi ci vediamo in un prossimo video ciao a tutti ciao a tutti